Una nuova e più comoda possibilità di raggiungere il centro storico di Catanzaro. Il sindaco Sergio Abramo ha dato il via alle attività dell'ascensore panoramico di Bellavista realizzato dall'amministrazione comunale allo scopo di rendere più funzionale il parcheggio da 80 posti auto di via Marincola Pistoia. Grazie all'attivazione dell'ascensore panoramico questo parcheggio diventa un supporto fondamentale per la parte più antica della città, detto Abramo sulla terrazza di Bellavista suggestivo e privilegiato punto panoramico che guarda verso il mare. L'ascensore ha due ingressi, il primo al quale si arriva attraverso un tunnel videosorvegliato sfocia direttamente all'ingresso del parcheggio in via Marincola Pistoia il secondo è posizionato a livello più alto del parcheggio. L'ascensore sarà attivo dalle 7.30 alle 21 ma tale orario è variabile in base alle insitive culturali in programma nel centro storico. Abramo ha parlato di opere importanti dal punto di vista estetico che rappresenta un ulteriore tassello nel sistema di mobilità in quanto la stessa offrirà 80 posti auto ai cittadini che potranno pertanto parcheggiare in un luogo nevralgico e raggiungere a piedi il centro cittadino. Un parcheggio con una dotazione di 80 posti auto che si aggiunge alla funicolare e quindi si aggiunge alla dotazione dei parcheggi ma non è finita perché sapete ormai tutti quanti che abbiamo presentato questo progetto per il sistema metropolitano che prevede un'altra serie di parcheggi da poter annettere a quelli già esistenti oltre a quelli del Pugliese abbiamo previsto di riprendere l'ascensore del parcheggio del Politeama quindi eliminando gli ascensori con due rampe una di entrata e una di uscita abbiamo previsto di utilizzare anche due ascensori per il parcheggio del Musoforo e soprattutto quello già esistente del Ferrovi della Calabria via Milano sono altri 300 posti auto perché abbiamo intenzione di spostare la sede dei Ferrovi della Calabria. Questo è un progetto che abbiamo presentato alla regione per gestire il sistema metropolitano per evitare il gomma da Lido a Catanzaro risparmiare moltissimi costi per rendere più fattibile il progetto della metropolitana altrimenti rischiamo che il giorno dopo si chiude. Ad affiancare a Bramo c'erano alcuni assessori della Giunta e di vertici dell'azienda per la mobilità cittadina ovvero Filippo Pietropaolo, direttore generale ed Elio Bruno, amministratore unico. All'AMC infatti è stata affidata la gestione del parcheggio. Sì, è stato rimesso a nuovo, ripristinato il parcheggio Bellavista che appunto consiste in circa 70 posti auto che sono delle strisce blu. normale strisce blu con i parcometri, però sono a servizio di queste strisce blu e anche di tutti i residenti della zona c'è un ascensore appunto panoramico che consente di arrivare a Bellavista, alla terrazza di Bellavista in pochissimo tempo, gratuito ovviamente. È un ascensore panoramico che dà la possibilità salendo o scendendo di ammirare un bellissimo panorama verso il mare. Grazie a tutti. Grazie.